E se ti dicessi che esiste una formula matematica che ti permette di capire quando raddoppierai l'attuale patrimonio di cui disponi e che questa stessa formula è responsabile del successo di uno dei più grandi investitori al mondo, ti interesserebbe capirne di più? Bene, sei nel posto giusto perché lo approfondiamo in questo video. Iniziamo! Nel mondo degli investimenti c'è una regola molto famosa chiamata regola del 72. In altre parole, se vuoi capire quanto tempo impiega, impiegherà il tuo capitale a raddoppiare, cioè da 100.000 euro passare a 200.000 euro, tu prendi il numero 72, che è una costante fissa, lo dividi per il rendimento atteso dal tuo investimento ed ecco che capisci immediatamente quanto tempo serve. Ad esempio 72 diviso 10% all'anno di rendimento, esempio numerico, tempo per raddoppiare il tuo capitale 7.2 anni. E questa formula che adesso approfondiremo è la base per un'evoluzione di questa formula, che è fondamentale, anzi è molto più importante da capire per noi investitori che stiamo appunto investendo secondo un piano di investimento, ok? Perché questa formula è efficace solo in un determinato contesto, ma l'obiettivo di questo video è farti capire l'evoluzione di questa formula. Però dal momento che non sono sicuro che tutti coloro che seguono questo canale conoscano la potenza di questo strumento per fare una stima grossolana di crescita del nostro patrimonio, prima di complicarci la vita vedendo qual è l'evoluzione, facciamo un passo indietro e chiariamoci il funzionamento di questa formula. Prima ho fatto l'esempio con un tasso di rendimento pari al 5%, ma la formula ha di bello che ti permette appunto di capire quanto tempo serve per raddoppiare il tuo capitale, qualunque sia il rendimento atteso. Ovviamente più alto è il rendimento atteso dal tuo capitale, minore è il tempo necessario a raddoppiare il capitale. Quindi se io sono in grado di ottenere un rendimento dell'1% anno dal mio capitale, 72 diviso 1%, la formula è questa, il tempo necessario per raddoppiare il mio capitale è pari a 69.66 anni, arrotondiamo a circa 72, circa 70 anni. Dietro questa formula non c'è magia nera, c'è il funzionamento dell'interesse composto. Se ti è chiaro, bene, se non ti è chiaro scrivimelo nei commenti che potrebbe essere l'oggetto di un altro video. Che non faremo su questo canale, perché su questo canale preferisco portare contenuti più avanzati, di analisi macro, di analisi tecnica, analisi fondamentale relativamente ai mercati finanziari o all'economia, ma lo faremo sul nuovo canale di piano finanziario SCF, Società di Consulenza Finanziaria, a cui se non ti sei iscritto ti invito ad iscriverti, come al solito è totalmente gratuito, siamo su YouTube, quindi trovi il link per iscriverti qui in basso. Il canale è partito da due settimane, ci sono tanti video super interessanti fatti da Dario, vagli a guardare perché ci sono delle autentiche gemme. Ma torniamo alla regola del 72. Quindi come vedi all'aumentare del rendimento atteso dal mio capitale, all'aumentare del tasso di interesse, si riduce il tempo necessario per raddoppiare il capitale. E diciamo che se conosci il funzionamento dell'interesse composto, questo dovrebbe essere un concetto abbastanza chiaro. Quello che non è chiaro ai più è che la regola del 72, ahimè, non si applica alla maggior parte di noi. In che senso? Allora perché ne stiamo parlando? Perché la maggior parte di noi non investe un capitale già formato, ma mese dopo mese aggiunge risparmio, che verosimilmente investe, ad un patrimonio che è già investito. Di conseguenza la regola del 72 non si applica in questi casi, o meglio, tende a sovrastimare il tempo per raddoppiare il capitale. Perché c'è un altro elemento che la maggior parte delle persone non considera e soprattutto se parti da zero nella costruzione del tuo patrimonio è l'elemento più importante. Quale sarà mai? Ovviamente il tasso di risparmio, cioè quanto sei in grado di risparmiare del tuo reddito. Quindi tasso di risparmio 20% vuol dire che tu sei in grado di risparmiare il 20% del tuo reddito. Guadagni 2000 euro al mese, risparmi 200 euro. Il tasso di risparmio è il 10%. Quindi per rendere interattivo questo video, scrivimi in diretta il tuo tasso di risparmio. Prendi il tuo risparmio, lo dividi per il tuo reddito, viene fuori una percentuale. Scrivimi nei commenti la percentuale. Il tasso di risparmio è fondamentale da avere sotto controllo perché riduce drasticamente il tempo necessario per raddoppiare il tuo capitale. Perché oltre al contributo dell'investimento che abbiamo visto permette all'interesso composto di manifestare la sua potenza incredibile, c'è un altro contributo che è il tasso di risparmio. Quindi quanto risparmio aggiungiamo al nostro patrimonio esistente. Quindi facciamo un esempio numerico. Con la regola del 72, con un tasso del rendimento del 6%, sei in grado di raddoppiare il tuo capitale in 12 anni. Perché 72 diviso 6 fa 12. Ma se alla regola del 72 aggiungiamo appunto il tasso di risparmio e consideriamo una persona che magari ha già 50.000 euro da parte e ogni anno risparmia il 10%, quindi 5.000 euro, guadagnando dal suo investimento sempre un 6% all'anno, bene, calcolatrice alla mano, abbiamo fatto noi i calcoli per te, il tempo per raddoppiare il capitale passa da 12 anni a 5 anni. Perché questo accade? Questa è matematica, è il funzionamento dell'interesse composto ed è qualcosa che la maggior parte delle persone capisce a livello qualitativo, perché una miriade di educatori in ambito finanziario spiegano l'efficacia dell'interesse composto, ma nessuno capisce in che modo funziona effettivamente in relazione alla fase in cui sono. Cioè parto da zero soldi, ha un determinato effetto l'interesse composto e posso aspettarmi determinate cose. Ho già un milione di euro, allora la matematica funziona in modo completamente diverso. proprio perché in mezzo c'è il tasso di risparmio che è la mia capacità di accantonare risparmio aggiungendolo al mio patrimonio esistente e dando una forza ulteriore alla crescita esponenziale del mio patrimonio. Quindi se vuoi capire quanto tempo è necessario per raddoppiare il tuo capitale devi avere sotto controllo tre variabili che sono quelle meravigliosamente illustrate in questo grafico che ti ricordo puoi scaricare gratuitamente, ti spiego come alla fine del video se vuoi proseguire questa analisi. Sull'asse delle Y hai gli anni per raddoppiare il tuo capitale. Sull'asse delle X hai il tasso di risparmio relativamente al tuo patrimonio. Prima abbiamo parlato di tasso di risparmio relativamente al reddito. Risparmi 200 euro, ne guadagni 2000, il tasso di risparmio è il 10%. Quando ti è chiaro quello, immediatamente dopo dovresti fare anche il calcolo su quanto risparmio sei in grado di generare sul patrimonio che hai già accumulato. E questo in inglese viene chiamato wealth saving rate, cioè il tasso di risparmio relativamente al patrimonio. Quindi vuol dire che se io risparmio, non lo so, 2000 euro all'anno su un patrimonio di 20.000, vuol dire che il tasso di risparmio sul patrimonio è il 10%, quindi sono più o meno in questa posizione. E poi in questo grafico vedi tre linee, ognuna per un tasso di rendimento differente. Basso profilo di rischio, o meglio più contenuto profilo di rischio, 5% di rendimento, 6% o 7%. Come vedi, quando inizia un percorso di costruzione del mio patrimonio, magari sono neolaureato, neodiplomato, inizio a lavorare, inizio a risparmiare, parto da zero, parto da 300 euro, la prima volta che aggiungo 300 euro al mio patrimonio, ho raddoppiato praticamente il mio capitale, quindi il tasso di risparmio relativamente al patrimonio, quando questo è molto alto, il tempo per raddoppiare è bassissimo, cioè ci può volere veramente qualche mese, se parto veramente da qualche centinaia di euro, o magari qualche anno, se ho già 3, 4, 5 mila euro da parte. E quello che è interessante notare è che non c'è differenza tra tasso di rendimento basso, medio o alto. Come vedi, le tre linee sono sovrapposte, significa che qualunque sia il tuo tasso di rendimento, in quella prima fase di crescita del tuo patrimonio, quello che conta è quanti soldi ci metti, non tanto quanto sei in grado di farli remunerare. E non avere chiaro questo concetto porta molte persone a farsi fregare dai guru del denaro online, i vari fuffa guru che ti vendono delle soluzioni che poi conti fatti, numeri alla mano, applicando l'interesse composto come si deve applicare, non hanno minimamente senso. E su questo torneremo tra poco. L'importante è in questa fase capire le relazioni matematiche, ne devi sapere un minimo di matematica per capire come funziona l'interesse composto, niente che tu non possa fare con una calcolatrice, o ancor meglio con un foglio Excel. Man mano che aumenta il tuo capitale, chiaramente il tuo tasso di risparmio relativamente al patrimonio si riduce. Ogni anno risparmi 3-4 mila euro. Bene, quando sei a 30-40 mila euro di patrimonio, come vedi, il tasso più o meno si attesta attorno al 10%. Ed ecco che le linee cominciano ad aprirsi. Perché qui, adesso, dal momento che ho già del patrimonio accumulato, quello che diventa via via più rilevante è il tasso di rendimento del mio capitale. Comincia a diventare molto più efficace la regola del 72, che invece nella fase iniziale di crescita del mio patrimonio a conti fatti non è così importante. Perché di fatto raddoppio il mio capitale più che altro per il risparmio. Quando invece ho un patrimonio molto formato, quindi magari io ho da parte 500 mila euro, un milione di euro, e ogni anno ne metto dentro 20-30 mila, bene, in proporzione vuol dire che sto mettendo dentro l'1-2%, il 5% in termini di rapporto tra reddito e patrimonio accumulato. Quindi mi trovo in questa situazione. Ovviamente ho già molto patrimonio che sta lavorando ed ecco che torna a funzionare la regola del 72, perché il contributo a far raddoppiare il mio capitale è molto più rilevante per quanto riguarda l'investimento, quanto rende l'investimento, di quanto non sia il risparmio che vada ad aggiungere al patrimonio accumulato. Se vuoi approfondire poi nel PDF, che puoi scaricare alla fine del video, ti lascio anche questa tabella con cui puoi giocare con i numeri nel caso tu non abbia una particolare dimestichezza con Excel. Quindi se questo è vero, e queste non sono elucubrazioni mie, ma è come funziona l'interesse composto, lo puoi verificare autonomamente con un foglio Excel. Se questo è vero, per una persona che parte da zero nella creazione del suo patrimonio, su che cosa ha senso concentrarsi? Sull'aumentare il tasso di risparmio o sull'aumentare il rendimento del proprio portafoglio? Scrivimelo nei commenti. Spero che la risposta sia ovviamente lavorare sul tasso di risparmio, cercando di risparmiare il più possibile, perché stiamo creando quel capitale che poi andremo ad investire. Ma questo concetto, come dicevo prima, è buonsenso, nel senso che si basa su matematica, ma è un buonsenso contraddetto da tutti i guru finanziari che trovi là fuori e che ti dicono Non arrivi alla fine del mese? Impara a fare trading così da trasformare i tuoi 200 euro che hai da parte in una comoda e abbondante rendita mensile. Ragazzi, rendiamoci conto, vi stanno vendendo un corso su come diventare ricchi. Un tempo queste figure erano il gatto e la volpe nella favola di Pinocchio, oggi sono dei personaggi dalla dubbia etica professionale che ti cercano di convincere di tesi che matematicamente sono infondate e appunto eticamente discutibili. Questo chiaramente è uno di quei concetti che all'italiano medio non piace sentire, perché è molto più facile sperare di vincere la lotteria con la scelta della cripto di turno, con il trade di turno, che non invece concentrarsi sul proprio lavoro, sulla gestione delle proprie spese e controllare il proprio tasso di risparmio. Quindi non c'è da meravigliarsi se la fila al banchetto delle bugie rassicuranti è molto più lunga della fila al banchetto delle triste verità. Però noi siamo diversi, siamo qui a cercare di capire come far crescere in modo responsabile, consapevole e realistico il nostro patrimonio e quindi se segui questi contenuti verosimilmente non cadi nelle trappole comunicative di questi fufo guru che trovi online. Ovviamente dietro questa simulazione c'è il fatto che il rendimento dei mercati finanziari, questo 5, 6, 7% non è garantito in modo costante ogni anno. Lo sappiamo, ne parliamo un video sì e un video no. Il mercato azionario, ma anche l'obbligazionario, ha dimostrato di essere in certi contesti profondamente volatile e un portafoglio molto diversificato, metà azioni, metà obbligazioni, nel 2022 ha avuto un rendimento profondamente negativo. Quindi questi ragionamenti sono veri a livello matematico, provati, non necessariamente si verificano in modo periodico ogni anno perché quando investiamo c'è sempre la componente di fortuna o sfortuna relativa al momento d'inizio dell'investimento. Potrei investire oggi, domani esserci un crollo e magari il tempo per raddoppiare il mio capitale è leggermente più lungo perché non sono entrato nel miglior momento possibile. Ma non possiamo mai saperlo, qual è il momento possibile, quindi vale la regola che prima si inizia meglio è. E questa è una regola che adesso ti dimostrerò ulteriormente con un caso molto interessante che ho letto in un libro chiamato La psicologia dei soldi di Morgan Houser che ti invito calorosamente a leggere. Infatti l'autore cita uno studio molto interessante sulla crescita del patrimonio di Warren Buffett che è perfettamente coerente con i concetti che ti ho spiegato nella prima parte del video. Saprai che Warren Buffett è uno degli investitori più efficienti del mondo, più profittevoli del mondo e Morgan Houser è un po' dissacrante nei confronti di Warren Buffett. Infatti dice pochi prestano attenzione ad un fatto molto semplice che la ricchezza di Warren Buffett non è solo dovuta all'essere un ottimo investitore. Cioè il fatto che Warren Buffett sia così ricco e ad oggi abbia un patrimonio di attorno ai 100 miliardi di dollari non è solo perché è stato un bravo investitore. È indiscutibile, è stato un ottimo investitore. Più o meno 22% di rendimento capitalizzato ogni anno. La vera ragione del successo è che lui è stato un bravo investitore da quando era un bambino. Questa è la cosa incredibile. Infatti se si studia la crescita del patrimonio di Warren Buffett Warren Buffett all'età di 30 anni aveva già accumulato un milione di dollari facendo investimenti da quando aveva 10 anni di età praticamente. E l'autore si è chiesto ma se Warren Buffett invece che investire dall'età dei 10 anni avesse iniziato ad investire a 30 anni quindi magari non con un patrimonio già accumulato di un milione di dollari ma con un patrimonio più in linea ad un trentenne 24-25 mila dollari e fosse stato comunque in grado di generare lo stesso rendimento analizzato quindi questo 22% più o meno che è stato in grado di generare anno su anno. Quanto sarebbe il suo patrimonio oggi? Bene questa domanda se l'è posta nel 2017 5 anni fa il patrimonio di Warren Buffett è molto aumentato a quella data ma quello che per noi è interessante notare è che a quella data il patrimonio era circa di 80 miliardi di dollari ma iniziando ad investire a 30 anni con solo 24 mila dollari di patrimonio invece che già un milione di dollari accumulati investiti nel corso di 20 anni precedenti perché lui ha iniziato a 10 anni a investire bene il suo patrimonio sarebbe solo solo tra virgolette di 1.9 miliardi di dollari ma questa non è una differenza trascurabile stiamo parlando di un patrimonio più basso del 97% rispetto agli attuali dell'articolo quindi del 2017 81 miliardi di patrimonio quindi quali sono le regole che possiamo fare nostre alla luce di questi fenomeni alla luce di queste regole matematiche di cui vediamo prima la teoria e poi l'applicazione pratica la prima regola è che si inizia ad investire dopo aver iniziato e massimizzato il risparmio e il risparmio dei primi anni è il risparmio più importante perché è quello che capitalizzerai cioè farai crescere nei decenni successivi seconda regola prima inizi meglio è iniziare a investire a 25 27 anni è ottimo se puoi permetterti di farlo iniziare a 10 ed è ovvio che di Warren Buffett ce n'è uno ogni secolo quindi è un caso estremo ma iniziare a 18 a 16 potenzialmente è molto meglio che non posticipare la data di inizio di investimento 10 15 o 20 anni dopo terza regola quando hai già del patrimonio accumulato inizi a guardare come aumentare il profilo di rischio se ti va se te la senti del tuo investimento quindi valutare azioni più speculative investimenti con maggiore profilo di rischio sempre in modo consapevolmente studiando non ti improvvisare perché perdere soldi è un lampo e vuol dire ritornare indietro nel percorso di crescita del nostro patrimonio di magari 5-10 anni però è in un secondo momento che puoi concentrarti sulla redditività del patrimonio all'inizio non ha assolutamente senso quindi come puoi intuire quando c'è da gestire un patrimonio se vogliamo massimizzare le nostre probabilità di successo dobbiamo seguire delle corrette priorità il problema è che la gente non le vuole seguire un po' per disinformazione perché nessuno ci insegna questi concetti cioè li puoi comprendere in questi video ma a livello scolastico nessuno ce li spiega 2 perché siamo tendenzialmente portati a cadere nella trappola del gatto e la volpe ok? rinnegando concetti banali di matematica come quelli che ti ho spiegato in questo video quindi se sei in grado di gestire autonomamente le tue finanze avendo ben chiare quali sono le priorità da seguire come quelle che ti ho evidenziato in questo video vai segui le linee guida di questo video e sono certo che sarai in grado di raddoppiare il tuo capitale molto più velocemente di quanto non dica la regola del 72 se invece non sei in grado di identificare queste priorità contattaci fai il nostro check up finanziario che è il modo migliore per capire come creare un piano solido per crescere il tuo patrimonio in modo consapevole e responsabile qui in alto alla tua destra puoi scaricare il pdf con la tabella e tutti i numeri che ti ho mostrato qui in basso se te lo sei perso ti invito a riguardare visto che vogliamo aumentare il tasso di risparmio un video in cui parliamo delle tre strategie per aumentare il tuo reddito e potenzialmente raddoppiarlo nell'arco di 12 mesi se questo video ti ha dato valore clicca mi piace iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video ciao